Un film maledetto? Forse si può considerare tale, certo, ma non nel modo in cui starete pensando. Stiamo parlando ovviamente del film The New Mutants, considerato di genere fantascientifico ed orrorifico d'azione e trasposizione della serie fumetti della Marvel chiamata appunto Nuovi Mutanti. Ora, che abbia poco a che fare con i fumetti è molto probabile, visto soprattutto i toni e l'atmosfera forse eccessivamente cupe che presenta, la trama è tanto semplice quanto inquietante. Cinque giovani mutanti sono rinchiusi all'interno di un istituto segreto contro la loro volontà, mentre pian piano scoprono i loro poteri e devono lottare contro le colpe del loro passato. Per quale motivo è considerato maledetto dal sottoscritto, vi starete chiedendo? Ebbene, l'idea di quest'opera nasce nel 2015, quando Josh Boone, fan della saga, insieme al suo migliore amico, proposero a Simon Kinberg, produttore della serie di film sugli X-Men, un adattamento fumettistico della loro saga preferita. Nello stesso anno la Fox scelse Josh come regista, oltre che scengiatore insieme al suo amico, e si operarono alla stesura, lavorandoci fino al 2016. Di base le idee continuavano ad essere un po' troppo confuse, a mio parere. Si volevano inserire personaggi già presenti nei film in uscita, ma poi si optò per uno stile diverso. Sempre nel corso dello stesso anno venne confermata la presenza di diversi personaggi, assicurandoli nella scrittura finale, dichiarando che le riprese sarebbero iniziate nel 2017. Non fu così, e nell'aprile del 2017 iniziò a smuoversi qualcosa. Uscì fuori la verità, ovvero che il casting non era ancora del tutto accurato, e alla fine i personaggi famosi dei precedenti film non sarebbero più dovuti comparire. Cambi e ricambi di casting, anche a causa dell'evoluzione della sceneggiatura durante le riprese, continuamente modificata e riadattata per essere resa più orrore paurosa. Il regista sembrò ossessionato da rendere il progetto un film dell'orrore come quelli con cui era cresciuto, ma il tutto proseguì, e il 16 settembre 2017 le riprese furono terminate. Il primo teaser trailer del film venne diffuso il 13 ottobre del 2017, la cui data d'uscita non fu svelata. Ad inizio del 2018 vennero fissate riprese aggiuntive per l'inserimento di un nuovo personaggio, ma la cosa si prolungò oltre il tempo, visto che regista, Josh Bone, desiderava un vero film horror, incitato dall'enorme successo di Hit, e spingendo la produzione ad inserire più scene paurosi ed inquietanti. Tutto questo però fu annullato, quando cedettero il pieno controllo al regista, annullando queste riprese e decidendo di portare sullo schermo il montaggio originale. L'uscita originale era prevista per il 13 aprile del 2018, forse non uno dei migliori periodi, poi rimandata al 22 febbraio 2019 e nuovamente slittata al 2 agosto 2019. Le idee a quanto pare non furono molto chiare, e la produzione infine decise di effettuare appunto queste riprese aggiuntive, spostando l'uscita italiana al 2 aprile 2020, ovviamente non accertata, il che è veramente un peccato, ma forse pensare ad una trilogia, ancora prima di iniziare il primo capitolo, è un po' una mossa presuntuosa. Altri problemi, o meglio spoiler, sono ulteriormente usciti fuori, un po' per sbaglio ed un po' per poca sicurezza da parte di tutti, rovinando alcuni dettagli che potevano avere davvero del potenziale, ma è sempre meglio non giudicare prima di vedere. Considerata dal sottoscritto una vera e propria maledizione cinematografica. Soltanto recentemente è uscita fuori l'ennesima data d'uscita, fissata per il 28 agosto del 2020, e si spera che questa volta possa effettivamente uscire. In merito, spero vi sia interessata questa particolare curiosità e la storia in merito a questo lungometraggio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se siete anche voi, come me, curiosi di guardare il risultato finale, sperandoci regali qualche emozione e qualche ventata d'aria fresca, dato il passato travagliato.